buongiorno cari amico da pablo il giorno di oggi un nuovo allenamento che allenamento faccio faccio un circuito per esmaltire l'addome poi a utilizzare il pesce però un circuito per esmaltire l'addome come vogliamo fare questo allenamento? 30 secondi di esercizi con 10 secondi di recupero io questo lo voy a ripeter una, due volte, tu a casa lo fai 3, 4, 5 tutte le volte che vuoi, lo importante anche tu condizione fisica, vamos a iniziare con un pochino di movimento, vamos a enviarle a nostro corpo un pochino di informazione che vamos a fare questa attività fisica approssimadamente questo circuito dura 12 minuti, 12 minuti poco poco, fa un pochino di caldo mettiamo qua mi malietta che mi l'ha regalato mi amigo Fausto Turbo Este, puoi guardare su canale che è un canale molto movito, movito, lo voy a mostrarle qua, sonrìe che la vita è bella, muovete, muovete nel posto muovete nel posto, fare questo circuito tabata per esmaltire l'addome, importante a questo esercizio dobbiamo aggiungere una sana e corretta alimentazione, mi canale potete guardare altri esercizio che sono efficaci per esmaltire l'addome, che buona l'acqua, buona l'acqua, sonrìe che la vita è bella, ho portato 8 kg, 8 kg, 4 kg, 4 kg, si tu in casa non hai il peso, non ti preoccupare, non ti preoccupare, lo faccio senza peso dopo la prossima volta, tu, tu le metti un peso, un peso ok? mi muovo nel posto un pochino di giro, 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 giro attività fisica ok, perfetto lo mettere con la nostra aiutamana e e e voy a cercare mi timer perchè vamos a iniziare questo circuito tabata con peso per esmaltire l'addome sono un pochino apanato, però piano piano che sta arrivando l'estate andiamo prendendo più più forma fisica ok, 30 segundos con 10 segundos di recupero voy a cercare mi timer mi timer, mi timer, che non lo vedo ok, perfetto ok mettiamonos in posizione 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 vanno aca vanno a iniziare ok preparate che doy 2-3 minuto 1 minuto un segundo per che te sistemi mettiamo qua in acqua vanno a iniziare con il peso più pesante preparate 3 2 1 4 3 2 1 0 il primo ejercicio salgo sub 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 no che freta tu lo falla a tu ritmo hay 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos salgo se se tu me puedes lachar tu comentario me puedes lachar tu comentario Pablo los ejercicios están difíciles podemos un allenamento para para los oblicuos lo cachamos ok guarda cueste guarda cueste guarda cueste 1 2 3 salgo toco salgo toco salgo toco salgo toco 6 6 6 6 6 6 me concentro guardo un punto fisico ok perfecto 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 nuestro próximo ejercicio el twins círculo círculo guardalo toco 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 gamba sub 60 60 60 60 jajaja lo próximo nuestro próximo nuestro próximo vamos a fare plan 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 una droga 1 cambio 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 ta 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 se siente no? ta 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 a tomen es colpito con pes 1 1 1 2 nuestro próximo prendo el peso prendo el peso prendo el peso prendo el peso manos superglúteas salgo lentamente salgo 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 ok como va el ejercicio? como me va? como me va? jajaja haz eso guarda cueste guarda cueste guarda cueste va 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 lentamente vieto vieto vale vale ok vale perfetto, prossimo, prossimo, prossimo. Isometria, vado qua. Fermoni, fermoni, 1, 2, 3 e cento, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, perfetto, 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 prossimo, 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 prossimo Ah, resiste! Un goccio di arga, un goccio di arga e cambio, 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 cambio. milloria, e cambio, 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 cambio. nuovamente, nuovamente, de capo, de capo, de capo de capo si sente, si sente, si sente, respira profondo, respira, 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 andiamo, sempre va, 1, 2 come va dai, si sente, adome è colpito, la salute costa, la bellezza costa, tutto costa e costa, ok, si va, alto, alto e piede, toco, 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 resiste, resiste ai ai ai, qual continua, qual continua, continuo, plan, 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 si sa parte male con il pit no te rinde mai, no te rinde mai, prossimo prendo i pesi su 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 oiga, il vapore, il vapore del ejercicio sube, 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 sube ok ok qualche attiva qualche attiva tutto il peso tutto il peso tutto il peso su guardalo qua su dietro su lento, lento, lento ma su 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 Grazie per la visione!